Ma che fine ha fatto Rocco? Avranno un vestito Poi sottovalutate il fascino di Rocco Quello c'ha gli occhialini, l'aria intellettuale Alle ragazze piace Alle ragazze piacciono i muscoli Alle ragazze gli piace il cervello, c'ha ragione lui Io per esempio la Sonia l'ho conquistata con l'intelligenza Ma va? La prima volta che si uscì mi ricordo la portai a vedere un bel film intellettuale russo Questa cosa gli piace parecchio Poi però dopo non ci siamo più in tornaio perché io... Bravo Ecco Spiegami adesso perché mi hai colpito No, ora lo devi dire Dillo